Sono Marco Sideri di Yordata SRL, stiamo presentando Herten, che è un prodotto altamente innovativo, è un ecosistema basato sul fatto che dobbiamo aggredire i bisogni dei pazienti cardiopatici, quindi con questo sistema stiamo elaborando dei biosensori che possano misurare tutte le informazioni che il paziente trasmette attraverso la saliva e il respiro e attraverso questi dati che confluiscono in un knowledge management system e un sistema cloud, poi vengono trasmessi al medico curante e ai cardiologi che in questo modo possono monitorare il paziente in remoto da casa, riducendo quindi fortemente i costi per il sistema sanitario perché riduciamo in questo modo le visite periodiche del paziente e miglioriamo lo stile di vita del paziente allo stesso modo perché comunque è monitorato in una maniera continua e riduciamo il rischio che ci siano delle complicazioni a livello carbiovascolare e quindi anche il rischio di ospedalizzazione conseguente.